La zona è un po' lunga, proviamo a vedere se non la riporto. Ho preso un po' stretto. A girare subito qua e fare una curva al contrario. La riprendo? Ho fatto di riprenderla da qua. Questa è un po' lungo. 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 Ok, io vado. Ciao ciao. no di qua dentro qua perfetto bella